Isa Miranda si prepara ad impersonare una dama di Venezia dalla vita familiare difficile e purrascosa. Nel film gli uomini non guardano il cielo. Enrico Bidon si confronta con la fotografia di Papa Sarto. Deve raffigurarne il personaggio, interpretare il dramma di un pontefice e di un'anima cristiana di fronte allo scatenarsi della guerra. In questa scena è ancora il cardinal Sarto, patriarca di Venezia. Regista del film è Scarpelli, operatore Garroni. Una delle sequenze culminanti è il conclave. Le pareti e la volta della cappella Sissina sono state fedelmente riprodotte in questa miniatura che, con un gioco prospettico, completa la parte inferiore ricostruita a grandezza naturale. Capitano delegato dei palazzi apostolici era allora il principe Chigi, che in tale qualità presta il giuramento di apertura. Io, Mario, principe Chigi, maresciallo perpetuo del conclave. Poi cominceranno le preghiere e le votazioni. Con questa formula i cardinali depongono le loro schede. Non è il nostro signore Gesù Cristo che deve giudicarmi e io eleggo colui che secondo Dio giudico debba essere eletto. Sarà eletto il cardinal Sarto. Venuta la guerra del 14 e gli offrirà la sua vita per la salvezza degli uomini. Grazie.